In arrivo dall'Europa i fondi per il piano nazionale di ripresa e resilienza a parte dei quali riguardano anche i porti abruzzesi di Vasto e Ortona e proprio da Ortona per noi in diretta c'è Gianni Cogliarella. Buongiorno Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. L'Unione Europea stacca il primo assegno in queste ore da 24,9 miliardi di euro per l'Italia. 62 milioni sono destinate alle infrastrutture abruzzesi legate prevalentemente alla Zessa, la zona economico speciale e quindi ci sono anche i porti di Ortona e di Vasto. Accanto a me Giuseppe Ranalli di Confindustria Abruzzo. Allora dunque un indicatore positivo? Assolutamente un indicatore straordinario. Non dimentichiamoci che i nostri porti regionali di Ortona e di Vasto, porto nazionale di Ortona e porto regionale di Vasto, hanno già assolto durante il periodo pre-covid e post-covid in modo straordinario. Ultimamente abbiamo una segnalazione di un più 13% il che significa che sono porti in salute ma devono essere resi ancora di più in salute attraverso il completamento delle infrastrutture. Questi 62 milioni o espiccioli come verranno impiegati? Ma assolutamente ci sono delle priorità. Per Vasto c'è già un piano regolatore portuale in essere, per Ortona c'è un piano regolatore vigente del 1969. Si tratta di completare le opere previste in quei piani e che assolutamente assolvono ad una funzione straordinaria per poter accompagnare ancora al meglio le industrie che ci chiedono fondali adeguati, che ci chiedono ulteriori banchine, che ci chiedono anche una rete viaria di collegamento migliore. Una novità importante, riprende il traffico passeggeri? Si tratta di una straordinaria occasione, in questo caso per il porto di Ortona, ma il 27 di agosto saranno sei approdi turistici, croceristici, ma non dimentichiamoci che questa è una vocazione di Pescara per la quale ci auguriamo il completamento e la ripresa al sistema per questa vocazione. In un telegramma cosa manca ancora per la ZES? Per la ZES manca ancora la nomina del comitato di gestione e sicuramente ci sono ancora altre attività da compiere che mi auguro e ci auguriamo tutti come sistema produttivo vengono realizzate a breve, anche perché abbiamo la necessità di avere sempre di più maggiore semplificazione. Grazie. Bene, da Ortona è tutto. Vi ricordo soltanto che alle 16.30 è attesa proprio la visita qui a Ortona del commissario straordinario Pettorino. A voi la linea.